israele palestina con chi sto e cosa è successo bene in questo video di oggi voglio andarvi a rappresentare cosa ne penso della questione israelo palestinese dirvi con chi sto e quello che essa successo o meglio sarebbe accaduto va bene mi avete richiesto questo video in tanti siete stati tantissimi credo che mi avete richiesto questo video mi sembra giusto e legittimo andare a rappresentarvi quella che è la mia opinione va bene senza se senza ma e senza difficoltà di sorta innanzitutto che cosa è successo brevemente cercherò di utilizzare un linguaggio semplice efficace e garbato ma al tempo stesso il più possibile semplificato perché voglio essere chiaro con voi allora innanzitutto ci troviamo in medio oriente ci troviamo in una zona che da anni ha come protagonista la guerra una guerra che continua ad esserci continua ad essere presente e non accenna purtroppo a diminuire sia per quanto riguarda le morti che la paura che viene ad essere letteralmente seminata va bene ora che cosa è accaduto è accaduto è accaduto che un popolo chiamato gli israeliani quindi israele hanno occupato o avrebbero occupato che dir si voglia il territorio dei palestinesi chiamiamolo idealmente parlando lo stato palestinese questa occupazione però che c'è stata non è stata un'occupazione legittima ma è stata un'occupazione di tipo abusivo cioè in pratica gli israeliani sono andati a finire in territorio palestinese palestinese che era abitato dai palestinesi va bene è come se idealmente parlando qui in italia noi avessimo un paese che è l'italiano e a un certo punto un giorno il popolo del senegal quindi i senegalesi di massa vengono qui in italia e occupano il nostro paese ovviamente noi italiani siamo felici ragionanti giulivi no che i senegalesi vengono a occupare l'italia quindi il nostro stato la nostra nazione va bene io penso infatti che a tutti roda il sedere quando si verifica un caso come questo va bene di conseguenza anche il popolo palestinese secondo me ha tutto il diritto di protestare contro l'occupazione che c'è stata da parte di israele e degli israeliani va bene ora gli israeliani sono un popolo formato per lo più non dico totalmente ma almeno all'ottanta 85 per cento circa da ebrei cioè sono praticamente ebrei io non ho nulla contro gli ebrei anzi purtroppo il popolo ebrei ebraico ebrei sono stati martoriati per troppi anni adolf hitler baffetto infatti vi ricordo che ha ucciso 6 milioni di ebrei grazie alla seconda guerra mondiale va bene però trovo illegittimo che il popolo israeliano abbia occupato illecitamente diciamo così la palestina qualcuno mi dirà hanno occupato per bisogno la palestina va bene cioè il bisogno che avevano gli israeliani la necessità ha portato si ha fatto sì che andasse alla fine in palestina e vi posso rispondere ok però l'occupazione che c'è stata di massa ti sciocca ti turba ci può essere un'occupazione ma non deve essere un'occupazione di massa si chiama invasione per me c'è stata una vera e propria invasione o una forma come tale io mi sono letto ricarte mi sono acculturato ho cercato di capire al meglio non avevo una grande chiarezza va bene e ho capito che hamas che è pro palestina non è poi un'associazione così cattiva alla fine cioè difende tutela la palestina però attenzione non confondiamo hamas dicendo che hamas sia la palestina hamas è semplicemente un'organizzazione politica che difende la palestina ma non è la palestina è un'organizzazione scendiamo le due cose non pensate che hamas sia la palestina cerca di tutelare cerca di difendere il territorio palestinese punto e a capo va bene ora quindi da chi sto io io sono della parte della palestina cioè io voglio che la palestina venga liberata in due parole inglesi dico free palestine o palestine free che dirsi oia va bene qualcuno dirà sbagli decentri hai preso un granchio carlo eando caro conoscitore non puoi fare una cosa del genere sembri un fascista un nazista di quantità io non sono i fascisti né nazista io reputo che un paese o meglio una nazione debba essere libera di poter abitare dove sta perché un'altra nazione deve invadere quella nazione là non so se effettivamente sulla carta esista lo stato palestinese ma nel caso in cui esista i palestinesi devono essere liberi di poter vivere dove stanno gli israeliani non possono stare là ok perché hanno occupato ok ora per bisogno per non bisogno però se fosse per bisogno ci può stare che 40 50 60 80 ma quando è un popolo o tutto un popolo tutta una nazione che si sposta di fatto de facto in palestina per me questa si chiama invasione voi immaginatevi ripeto che qui in italia vengano tutti i tedeschi oppure tutti i francesi tutti i francesi qui in italia vengono noi ci sentiamo defraudati noi ci sentiamo in condizione di dire ma perché venite qua ok così conseguentemente parlando anche la palestina i palestinesi dicono perché cari israeliani venite qua di conseguenza è nata hamas che ripeto non è la palestina però difende tutela i confini palestinesi ok ricordatevi che hamas è un'organizzazione politica che fa gli interessi della palestina punto ma ricordatevi che hamas è assistante non nella palestina punto e a capo bene spero di aver fugato ogni tubio e voi e tu per chi stai stai pro hamas cioè pro palestina o pro israele israeliani io ripeto sono pro palestina free palestina rendiamo riderebbe la palestina lo stato palestinese a me si è concesso che esista da leandro il conoscitore italiano è tutto iscriviti iscrivetevi al canale commentate spero finalmente di aver fatto chiarezza esprimendo la mia opinione in una live se rari dissi che ero pro hamas pro cioè contro hamas ma studiando bene un po un minimo e vendo bene le carte a mio avviso penso che la cosa la scelta migliore sia quella di dire pro palestina contro israele punto e capo anche perché quando un po una nazione viene occupata abusivamente da un popolo non credo che faccia piacere punto e capo mia opinione sia ben chiaro questa è una guerra antichissima radici antichissima e profonde io ho fatto una ho fatto una descrizione molto breve sinteticissima di quello che sarebbe o è accaduto ma siete libri di cercare su web di google e tutte le informazioni le trovate su internet punto e a capo iscrivetevi commentate ciao a tutti